eccoci eccoci tornati nella diretta buon pomeriggio cari telespettatori la musica mi ero dimenticata però è bello risentirla questa musica ci riporta un po ai vecchi tempi quando si dicevano le curiosità vabbè si è vero col tavolo l'albero il tamburello io però quando c'era l'albero e il tamburello non c'ero quindi lo ricordo un po meno però vabbè non fa niente quindi cari telespettatori benvenuti a questo giovedì 23 febbraio puntata numero 116 di pomeriggio con noi domani è un problema perché venerdì saranno 117 sono scaramantico allora noi l'altro giorno cos'era martedì martedì 17 abbiamo superato no no era venerdì no era martedì ma martedì era 14 san valentino e dai no vabbè sempre sfortuna porta comunque comunque venerdì 17 l'abbiamo superato quindi puntata 117 anche se è di venerdì io non vedo alcun problema allora saremo insieme fino alle ore 19 e 30 l'invito e l'augurio ovviamente a quello che voi possiate seguirci e vogliate soprattutto seguirci certo scaricando le nostre applicazioni di tutto il tutto il Cusano Media Gruppo tutto il Cusano Media Gruppo le nostre varie ramificazioni a partire da Francesca allora una tu e io vai Cusano Italia TV Radio Cusano Campus Cusano News 7 e Tag 24 vai ogni Cusano e Radio Cusano Campus ho detto io buonanotte Francesca allora dobbiamo arrivare alle 19 e 30 buon pomeriggio semmai buon pomeriggio semmai e quindi diamo il benvenuto torniamo seri diamo il benvenuto al nostro ospite Giuseppe Libutti legale Unione Inquilini buon pomeriggio avvocato Libutti buonasera la vostra allegria è coinvolgente grazie per strapparci un po' di larità ce ne vuole nel pomeriggio grazie avvocato grazie davvero è un complimento meraviglioso noi facciamo i complimenti però a lei al suo lavoro come lo svolgete come Unione anche perché sta succedendo qualcosa di molto particolare e se ne sente tanto parlare di casi occupati abusivamente e di spratti soprattutto di spratti sì guardate si sente parlare come avete detto voi di casi occupati che per carità rappresentano un problema ma il tema è la carenza di alloggi se voi pensate che a Roma abbiamo oltre 14.000 famiglie in attesa di casa popolare e all'incirca un centinaio di assegnazioni l'anno sono state fatte da quando si è insediata la giunta gualtieri i numeri parlano da soli voi capite che ci sono persone migliaia di famiglie che hanno diritto solo a Roma ad avere una casa popolare probabilmente se i tempi di attesa sono questi i numeri sono quelli che ci siamo detti questa casa popolare di cui hanno diritto non l'avranno mai e in molti casi queste persone sono anche famiglie che hanno a carico dei bambini e che per diritto comunque aspetta loro avere questa casa giusto Avvocato Ributti? Assolutamente sì purtroppo noi il mese scorso sono anche intervenuto presso che ringrazio comunque Unicusano TV per trovare lo spazio perché trova lo spazio da dedicare un tema così importante a delle vertenze così importanti guardate non è affatto non è affatto scontato e sentitamente vi ringrazio la settimana scorsa il mese scorso sono stato ospite nella vostra emittente per riportare un fatto una famiglia con due figli minori disabili che è stata sfrattata è stata sfrattata senza avere nessun è vero Avvocato ma questo purtroppo mi scusi se la interrompo perché io lo trovo assurdo è un tema che ritorna perché noi tra poco e lo dico anche alla redazione e alla regia vedremo un video di una signora di una donna invalida all'80% che vive da sola che verrà sfrattata che è stata sfrattata che è stata già sfrattata noi la settimana scorsa abbiamo parlato di questa famiglia la settimana prima invece è stata sfrattata un'altra signora pensi lei ha detto una signora invalida all'80% qui è stata sfrattata una signora di 85 anni invalida al 100% allettata intrasportabile è stata messa per strada per strada il problema però mi perdoni un attimo scusatemi un secondo perché poi veramente inizio a dare di matto su certe cose no ma parliamo di di diritti umani noi siamo sempre attenti ai diritti le polemiche che si generano da Sanremo se succede questo se succede quest'altro una signora invalida al 100% di 85 anni che viene presa sfrattata e buttata per strada ma di che cosa stiamo parlando e soprattutto il governo e lo Stato come va ad aiutare questa signora nel momento in cui si trova in questa condizione perché la signora penso sia completamente impossibilitata a trovare una soluzione o comunque a pagarsi un affitto o a trovare pagare anche magari una casa di riposo dove potrei stare assolutamente sì la questione aggiungo un aspetto che questa signora aveva ottenuto un provvedimento dall'ONU perché come Unione Inquilini siamo dovuti ricorrere all'ONU per denunciare questa situazione perché l'Italia ha sottoscritto dei protocolli internazionali oltre che previsto all'interno della nostra Costituzione che prevedono che sia garantito il diritto alla casa nonostante questa signora avesse una disposizione da parte dell'ONU che intimava allo Stato perlomeno nella fase cautelare vale a dire nella prima fase di non commettere nessun atto che le desse i diritti della signora questo ordine dell'ONU che è stato portato a conoscenza del sindaco del prefetto di tutte le altre autorità non ha assortito alcun effetto ora il procedimento dell'ONU prosegue durerà all'incirco un anno e mezzo due anni però al momento l'Italia ha ritenuto di non dover rispettare questo quanto stabilito dall'ONU guardate ci sono delle sentenze di questo Comitato ONU che condannano gli stati membri e gli stati sottoscrittori del protocollo anche per non avere ottemperato all'ordine di non ledere i diritti della persona che chiede sostanzialmente dignità e che chiede di essere garantita dall'ONU la burocrazia con determinate carte che io definirei anche scartoffi in determinate circostanze si vanno a prendere delle decisioni che sono o bianco o nero non si valuta mai la gradazione del grigio e certo e questo avviene in tutto questo avviene in tutto non sono d'accordo su questo io non sono sicuramente contento da cittadino di questo aspetto qui ma so che purtroppo è così nessuno finora ha cambiato le carte e quindi si va avanti in questo mondo e cosa possiamo però aspettarci dal futuro su una situazione del genere guardi il futuro non è affatto Rosio ieri è stato interrogato il ministro Salvini che è competente per quanto riguarda la questione della casa perché c'è in aggiunta a questo il fatto che il governo attuale ha sospeso il fondo sociale affitti e quello per l'amorosità incolpevole che erano dei fondi che sostanzialmente permettevano secondo i nostri calcoli all'incirca a 400.000 famiglie di avere un tetto questi fondi sono stati azzerati senza alcuna soluzione medio-tempore ieri è stato interrogato su questo il ministro Salvini in Parlamento ha risposto dicendo che farà e porterà a compimento un grande piano casa in realtà però nulla ha detto veramente sono state hanno colpito quello che non ha detto il ministro Salvini perché nello specifico non ha sfrattato le oltre non ha parlato delle oltre 650.000 famiglie in Italia oggi in graduatoria per ottenere una casa popolare quindi certificate dai comuni come persone aventi diritto le graduatorie funzionano che a seconda della situazione personale innanzitutto bisogna fare la domanda di popolare e questo è un invito a chiunque ha difficoltà abitativa a farlo l'Unione Inquilini può aiutare su Roma ma è presente in tutta Italia chiunque ne ha bisogno e ne ha diritto a compilare la domanda di casa popolare a seconda delle caratteristiche della famiglia viene assicurato un putteggio che poi ti assicura la presenza all'interno della graduatoria ma anche su questo voglio dire se voi pensate che a Roma la casa popolare è la lista per ottenere la casa popolare è aggiornata al primo semestre del 2021 quindi vale a dire che tutti coloro che hanno fatto la domanda di casa popolare nel periodo successivo quindi tutto il 2021 nel secondo semestre del 2021 e tutto il 2022 non risultano nemmeno nella graduatoria voi capite quindi oltre un anno per essere inseriti nella graduatoria restando a quello che dicevamo prima e la situazione piano piano va sempre più ad aggravarsi perché comunque le persone vanno ad accavallarsi poi immagino ci siano anche questioni di priorità di situazioni avvocato Libutti sì è evidente che quando ci sono disabilitari di passi e situazioni patologiche si hanno più punti e si sale appunto nella graduatoria però il tema è che parliamo di 14.000 famiglie in attesa ci sono differenze tra nord e sud assolutamente sì poi il problema riguarda principalmente le grandi città si comincia a diffondere perché quello che una volta era il ceto medio oggi è sempre più anche il ceto povero e quindi riguarda le grandi città ma oggi anche i piccoli centri però è un problema che riguarda che attiene principalmente le grandi città Roma Milano e così via e per concludere insomma nessuna parola non sapremo che cosa ci aspetta noi attendiamo nuovi 400.000 sfratti per quello che dicevamo solo per aver tolto i contributi fomorosità incolpevole e il contributo sociale all'affitto per i quali non verranno posti i rimedi evidente dal nostro punto di vista è uno questo problema si può risolvere solo ed esclusivamente aumentando il numero di alloggi popolari non necessariamente costruire zero consumo di suolo sarebbe l'ideale c'è tanto invenduto nel pubblico c'è tanto abbandonato che potrebbe essere e ne sappiamo purtroppo fin troppo bene determinate enti che adesso mettono in vendita fanno anche dei sconti in alcune situazioni importanti allora senza fare delle polemiche che ho sentito anche in altre trasmissioni che sono abbastanza sterili non è questo sicuramente il mio riferimento però come diceva l'avvocato Libuti ci sono tante di quelle cose di quegli immobili abbandonati che non vedranno mai venduti tra l'altro perché alcuni sono abbandonati lasciati a se stessi e messi in vendita ma nessuno poi parleremo tratteremo anche di questo argomento però quando c'è una signora invalida che ha più di 80 anni ed è in una casa come si fa? come si muove anche il governo e le istituzioni che comunque ne fanno le veci di questa situazione per farvelo capire io credo che sia importante andare a sentire una testimonianza andiamo a sentire quindi la testimonianza noi ne abbiamo parlato prima insieme all'avvocato Libuti abbiamo un video di una donna invalida che appunto è stata sfrattata guardiamo il video e poi lo commentiamo insieme lei da quanto vive qui? io da quando sono nato sì quindi sono 52 anni tutta la mia famiglia qui sotto qui siamo rimasti in mamma perché poi è morto nell'89 mamma è venuta a mancare tre anni e mezzo fa e i miei fratelli si sono sposati quindi sono andati via molto presto però nel momento in cui è accaduto tutto io avevo perso il lavoro e stavamo soltanto con la pensione di mamma che era una pensione sociale quindi pari a 550 euro delle volte 600 per cui non eravamo in grado comunque di affrontare la spesa dell'affitto e anche altre spese il problema mi è venuto a mancare diciamo che il grosso problema è stato che io ho perso il lavoro causa un tumore perché ho avuto un tumore nel 2014 e poi successivamente insomma non sono stata più bene bene perché mi ha comportato altre patologie altre cose e non sono più riuscita ad entrare nel mondo del lavoro e questa è stata la cosa che mi ha danneggiato ecco fondamentalmente noi abbiamo intercettato lo strato da dieci giorni fa circa quindi non abbiamo seguito a livello legale è arrivato uno strato esegutivo in una fase abbastanza inoltrata a una situazione economica e sociale molto particolare un ex malato oncologico con un'invalidità all'80% percepisce solo una quota di reddito di cittadinanza e l'assegno di invalidità e ci siamo subito attivati per allertare il municipio e le istituzioni di prossimità finché cercassero trovassero una soluzione abitativa alternativa dignitosa i tempi purtroppo erano molto stretti per cui oggi abbiamo deciso di fare un presidio solidale per evitare che venisse sfrattata l'ultimo lavoro che ho fatto lavoravo presso un tour operator e sono rimasta lì gli ultimi anni finché poi non sono stata operata ma è stata seguita cioè nel senso ha ricevuto un certificato di invalidità invalidità mi è stata riconosciuta solo pochi mesi fa e da quanto tempo è che lei non riesce a pagare io questo l'aumento intanto poi c'è stato il blocco della pandemia quindi diciamo che nella disgrazia globale tra virgolette sono stata fortunata perché c'è stato questo blocco per carità il problema è che non avendo la possibilità di poter affittare neanche un altro appartamento adesso perché ovviamente io in progresso non sarei in grado di poterlo saltare perché non avendo le dovute entrate diciamo quindi non sarei in grado comunque di saltare il progresso però magari cercare anche un monolocale o qualcosa per me adesso diventa difficoltoso perché giustamente coloro che affittano vogliono delle garanzie tipo una busta paga o quant'altro cose che io al momento non posso garantire lei troverebbe anche un'altra soluzione? sì io volentieri se la trovassi nel senso che mi che mi danno la possibilità di poterli accedere ben volentieri io infatti come vedi ci sono tutti gli scatoloni ho già smartito una parte dei mobili quindi l'intenzione mia non è di fare ostruzionismo e di restare qui per chissà quale motivo eppure c'è anche nata in questa casa sì questo sì perché ci sono nata comunque tutta la famiglia nostra è vissuta qui a livello sentimentale sì ce ne sono tanti di sentimenti siamo riusciti a prendere due mesi d'oro e in questi due mesi avremo il tempo di qualche modo mettere in campo tutti quelli che sono gli strumenti normativi necessari per poter garantire alla signora un nuovo alloggio o comunque la possibilità di pagare un affitto attraverso quelli che sono appunto gli strumenti propri dell'amministrazione municipale e comunale l'importante era che oggi però non si casse questo precedente che una cittadina con gravi problemi di disabilità venisse sbattuta in mezzo alla strada senza che ci fosse nessun tipo di mediazione siamo contenti di questo risultato ciò che ci preoccupa è la situazione generale perché quando uno viene sfrattato il problema anche quando il municipio vuole aiutare il comune mette degli strumenti è che l'altra parte cioè chi dispone di alloggi non vuole affittare a casi particolarmente fragili quindi bisogna trovare una soluzione strutturale non c'è uno strumento di garanzia pubblico? sì ma se poi il privato non vuole fidarsi non si fida di fatto servono più case popolari servono tante case popolari per far fronte alla tensione abitativa di questa città in cui sono in corso 4.500 sfratti da quando è stato rimosso il blocco degli sfratti come misura di contenimento del provito è quello che diceva lei avvocato e abbiamo visto molto da vicino una situazione una situazione tipo avvocato Libutti sì purtroppo il tema è questo qui servono nuovi alloggi popolari è stato detto la situazione è questa e servono nel frattempo che si costituiscono si realizzano non necessariamente attraverso nuove costruzioni questi alloggi popolari ma abbiamo detto il recupero il riuso di alloggi già esistenti può essere una strada servono delle misure di contenimento noi dobbiamo pensare che ad alcuni sfratti ad alcune persone riusciamo a dare voce ma ogni giorno a Roma si eseguono tra i 5 e gli 8 sfratti con la forza pubblica 5 e 8 persone che vanno per strada famiglie insomma questo è il sono i numeri di cui parliamo perché il tema è uno dobbiamo dirci non mi piace che qui non l'abbiamo utilizzato questo nome si parla di emergenza abitativa in realtà non c'è nessuna emergenza c'è una carenza strutturale di politiche sull'abitare c'è un'assenza di visione su come risolvere questa tematica e su come andare avanti e dare assistenza a persone che ne hanno diritto ad avere una casa popolare avvocato vediamo queste persone che hanno diritto ad avere una casa avere un'abitazione che trovano degli stabili completamente abbandonati e comunque li vanno ad occupare come vogliamo proporci in merito a questa vicenda cioè loro comunque hanno diritto ad avere delle abitazioni non avendola sono non dico in diritto però comunque obbligano per forza di cose per forza di forze maggiori cioè non sono giustificati comunque se poi dico preferisco occupare piuttosto che andare sotto un ponte esatto sì guardi purtroppo c'è da dire una cosa noi pensiamo che infatti guardate veramente mi sento di ringraziarvi per come ma grazie a lei in maniera seria e professionale il tema e questo abbiamo detto i numeri parlo da solo 14.000 persone che se i numeri sono questi tra 30-35 anni 40 forse avranno una casa popolare nel frattempo sono persone in carne e ossa persone che o per chi hanno perso il lavoro o hanno degli stipendi che non gli permettono di reperire alloggi a carne di mercato sono persone che devono esistere allora di abbassare il mercato mi scusi se ne interrompo non se ne parla questo l'abbiamo capito perché l'inflazione può andare su o giù ma comprare non se ne parla ormai non compra più nessuno abbiamo visto noi avvocato Libutti insieme al mio collega Francesco intervistavamo alcuni comunque esponenti della città di Milano che parlavamo con loro di affitti veramente alle stelle per non parlare di una Roma ma è veramente tanto più tardi ci arriveremo esatto è veramente impossibile pensare magari di avere anche un reddito di cittadinanza di avere con un reddito di cittadinanza di poter sostenere un affitto le spese comunque che comportano di poter sostenere un figlio due figli non esiste più il monoreddito nel senso una famiglia dove una persona solo lavora questa è fantascienza ecco è assolutamente questo quindi appunto tornando al discorso di prima queste persone in Carenosa hanno diritto a una casa e sono costrette in situazione di emergenza a vivere perché nessuno vorrebbe vivere ve l'assicuro in situazioni di precarietà abitativa così come nelle occupazioni negli stabili occupati in situazioni precarie e quant'altro sono situazioni di emergenza che sono necessarie per far fronte a una carenza di alloggi nei confronti di persone che ne avrebbero diritto il tema degli affitti di calmirare gli affitti anche in quest'ottica sarebbe un tema quello che lo Stato debba appunto ma governare le politiche abitative avere una visione anche qui però attenzione viene propagandato il social housing come uno strumento in realtà il social housing così come viene interpretato in Italia non lo è noi non abbiamo neanche per queste famiglie in povertà assoluta non abbiamo bisogno neanche di social housing non abbiamo bisogno di edilizia residenziale pubblica perché queste persone ne hanno diritto e quindi quella è l'unica soluzione mi viene da sorridere avvocato perché io penso ad esempio a Roma lei conosce la città di Roma ovviamente c'è in una zona molto importante che è nel quartiere come dire Tor di Quinto Corso Francia Fleming quella zona lì una zona molto importante di Roma Nord insomma il villaggio olimpico quelle sono delle abitazioni che erano state costruite su modelli tutti uguali per le olimpiadi del 1960 a Roma vabbè bisogna ricreare bisognerebbe ricreare un modello simile anche perché comunque i posti magari già edificati ci sono avvocato li butti avvocato ma ci sono anche i soldi per poterlo fare allora vuol dire che lo stato italiano non ha più una lira siamo in default in banca rotta e finisce la storia però è una questione di priorità non è che la priorità sono stati i monopattini i banchi a rotelle diciamoci la verità perché è così vediamo girando per Roma quanti sono gli immobili abbandonati di cui non si sa neanche di chi è la priorità li butti buttiamo giù lo stadio Flaminio a cosa ci serve buttiamo giù lo stadio è una follia è fantascienza quello che sto raccontando è una provocazione li butti sia chiaro avvocato buttiamo giù lo stadio Flaminio tiriamo su delle abitazioni quante ce ne vanno lì in realtà lo stadio Flaminio anche qui dovrebbe essere ristrutturato per rendere fruibile all'uso lo nominiamo ma all'interno dello stadio Flaminio purtroppo lo vediamo passandoci vicino numerose persone esatto insomma in disagio oramai lo occupano quello spazio purtroppo tristemente noto alla cronaca mi sembra che un senza detto ultimamente sia anche deceduto all'interno è evidente che non possiamo continuare a tenere stabili vuoti e le persone per strada bisogna trovare anche perché in un certo senso avvocato si va a come dire a favorire questo fenomeno ma inevitabile non è favorirsi l'assenza di una visione di una prospettiva di una maniera di sull'abitare un piano quinquennale decennale ventennale trentennale numeri alla mano sono 200.000 650.000 famiglie in Italia in attesa di casa popolare io queste persone da qui a 8 anni devo immaginare di dargli questo diritto di cui devono godere voglio dire ad oggi questa questa prospettiva non c'è ripeto il ministro Salvini ieri question time ha risposto che ci sarà un nuovo grande piano casa che lo discuterà con il Parlamento benissimo l'intervento sia del governo che quindi delle opposizioni che può avvenire solo attraverso il Parlamento su un tema come questo ma il tema è anche fare in assoluto non social housing avvocato però ora noi lo dobbiamo salutare perché abbiamo poco tempo a me piacerebbe però a noi piacerebbe che vediamo se la prossima settimana ci venisse a trovare in studio se avessi la possibilità di farlo per parlare sa di cosa avvocato delle situazioni in cui gli italiani in una casa ce l'hanno però magari stanno fuori per lavoro stanno fuori per vari motivi di salute dal sud vanno al nord per curarsi tornano al sud e trovano la casa occupata e chi gli ha occupato la casa rimane lì tranquillamente nessuno lo tira via e invece alle persone di 80 anni e passa invalida al 100% spratto immediato quindi se le va sicuramente avremo un'altra occasione io vi ringrazio per la disponibilità ma grazie a lei vorrei rispondere ma mi avete detto che il tempo è terminato bisogna trovare il tempo è tirato guardi avvocato se lei vuole andiamo in pubblicità e poi torniamo tra pochissimo va bene allora andiamo un attimo in pubblicità grazie mille avvocato li butti a tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti